Incontro Fiume questa mattina a Teramo dei responsabili del Teramo Calcio, incontro con il primo cittadino di Teramo, Gianguido D'Alberto. Un summit per tentare di trovare delle soluzioni in vista del prossimo anno del campionato. Le questioni principali che sono state affrontate è sicuramente riportare la squadra a Teramo e la costituzione di una SRL. Dubbi sulla presidenza di Eddi Rastelli, ovvero bisognerà vedere se il Consiglio di amministrazione porrà il sì sul suo nome anche nel prossimo anno. La società in SRL era una volontà ed è una volontà che i soci avevano già espresso e oggi è emersa con grande chiarezza questa esigenza. Ed è legata anche all'altro aspetto perché è un'organizzazione solida, strutturata, consente anche di facilitare l'apertura e l'accesso ad altri soci. Perché ci sia una fotografia della situazione definitiva, ci sia il piano di costituzione dell'SRL, ci sia anche l'apertura a nuovi soci perché dobbiamo assolutamente rispettare le tempistiche che sono previste. Ma del Bonolis si è parlato? Lo stadio Bonolis, io l'ho sempre detto, lo ribadisco, è lo stadio, è l'impianto di riferimento della società, di riferimento della città di Teramo. E la società di riferimento della città di Teramo è il città di Teramo. Quindi questo deve essere molto chiaro, ma non faccio confermare quanto ho già detto. Sapete bene che si è avviato il percorso per il recupero dell'ex stadio comunale, dello stadio comunale, con una riqualificazione e originazione complessiva che però avrà ovviamente i suoi tempi che sono previsti dal bando stesso.